Università di Catanzaro, campus Salvatore Venuta. Questo è il futuro del nostro capoluogo, della città di Catanzaro? L'abbiamo chiesto agli studenti, l'abbiamo chiesto a alcuni professori, l'abbiamo chiesto anche al direttore generale dell'AMC che ci ha parlato del problema dei trasporti e che ha sottolineato come la nostra città e il campus siano stati penalizzati rispetto invece ad altri campus come quello di Rende per esempio, che è stato aiutato dalla regione per quanto riguarda il chilometraggio. Vorremmo intervistare il prima possibile, se ce lo concederà il rettore per fare il punto della situazione, ma poniamo adesso un primo punto, una prima conclusione di questa nostra inchiesta. Siamo andati infatti a parlare con il sindaco e il presidente della provincia Sergio Abramo che a sorpresa ha cambiato le carte in tavola. Ma diciamo che i progetti sono veramente tanti che abbiamo messo sul tavolo e innanzitutto il collegamento tra il centro storico e la cittadella universitaria con il sistema metropolitano che è la cosa più importante, quindi significa che da Piazza Matteotti potranno prendere accanto al cavatore la fermata, ci sarà la fermata della metropolitana che porterà direttamente all'interno dell'università e quindi questa è la prima cosa importante. La seconda è il finanziamento che abbiamo avuto per quanto riguarda la Casa per lo Studente alla Chimirre, sono 11 milioni, speriamo di prendere anche la scuola di Via Cilea che è quella di fronte perché i soldi bastano per tutti e due. Gli immobili, questo per incentivare molto di più nel centro storico la permanenza degli studenti, visto anche questo collegamento metropolitano. E poi in agenda urbana e nel CIS c'è il recupero degli immobili anche nel centro storico che stiamo inserendo, anche nel contratto istituzionale di sviluppo che stiamo per presentare da qui a fine mese, lo presenteremo già in Bitalia, è previsto anche che nel centro storico ci siano molte abitazioni per quanto riguarda gli studenti. E poi naturalmente fargli vivere, far vivere agli studenti, soprattutto le attività culturali che ormai sono tantissime in città. Devo dire che è pervescente Catanzaro a punto di vista culturale e però bisogna farla vivere meglio soprattutto agli studenti. L'altra cosa che abbiamo inserito sempre nel CIS invece è la disponibilità del Gallupio perché si sposteranno una volta che sarà finita la scuola Mazzini che è inserita in agenda urbana. Abbiamo previsto la ristrutturazione del Gallupio che sarà sicuramente destinato poi a sede universitaria. Da quello che mi sta dicendo lei vede quindi una Catanzaro che diventa nuovamente una città universitaria, nel senso il centro storico. Invece per quanto riguarda proprio l'area di Germaneto, laddove lei mi ha detto che ci saranno più anche investimenti proprio per la costruzione delle nuove case dello studente lì e nuove strutture. Io parlo proprio delle strutture che possono essere costruite in tutti quei terreni intorno alla cittadella, all'università. Secondo lei quella che adesso sembra una cattedrale del deserto potrebbe essere una nuova Catanzaro, una nuova espansione di Catanzaro che ovviamente rimarrà per sempre legata come fulcro a questo importantissimo centro storico a cui tutti teniamo tantissimo. No, assolutamente no. Credo che la Germaneto, così come abbiamo provato in Consiglio Comunale, all'unanimità per dire la verità, quindi è un'idea che abbiamo tutti quanti insieme come Consiglio Comunale. L'idea sia quella di far diventare Germaneto area di servizi e quindi non è previsto nell'ampliamento per quanto riguarda le esigenze per i ragazzi universitari perché, come dicevo prima, sono previsti nel centro di Catanzaro. La Chimir sta nel centro, quindi è sotto bella vista. Lì saranno solamente servizi, quindi le nuove, diciamo, future costruzioni che si faranno saranno solo esclusivamente servizi e noi cercheremo invece di ripopolare il centro storico anche con gli studenti. Quindi dare servizi maggiore agli studenti. Il sistema metropolitano, ripeto, sarà comodissimo perché avere la fermata direttamente all'interno dell'università e della città e della regionale credo che sia la cosa più importante perché il collegamento velocizzerà sicuramente il trasporto dei nostri ragazzi ma soprattutto in termini di servizi il centro storico si sta con questa programmazione organizzando per farlo vivere ancora meglio da parte dei ragazzi universitari ma per l'intera città, per dire la verità, perché il centro storico piano piano lo stiamo riprendendo e il programma che abbiamo messo su prevede non solo investimenti ingenti ma soprattutto attività di servizi. Questo quindi, diciamo, Germanetto restare di servizi e tanti studenti perché la cosa che ci ha sorpreso di più intervistando degli studenti è che moltissimi, sono due o tre anni che stanno a Catanzaro e non conoscono il nostro centro storico. Questo mi ha lasciato senza parole. Catanzaro si riferisce a Lido? Stanno a Lido e non conoscono quella città di Catanzaro, insomma, centro storico. Ma diciamo che la Movida si sta spostando piano piano nel centro storico. Basta vedere il sabato sera fare una passeggiata nel centro storico e non è più come prima. Quindi la Movida piano piano si sta spostando. Diciamo che appena sarà finito il sistema metropolitano e daremo l'opportunità ai giovani di avere dei prezzi molto più bassi con i lavori che faremo insieme all'OMG per quanto riguarda i finanziamenti che abbiamo avuto secondo me sarà molto più conveniente stare nel centro storico anche a livello di prezzi perché a Lido i prezzi sono abbastanza alti. Poi è piena Lido, non regge più, diciamo, perché nel periodo estivo poi utilizzano le case invece per... Si fanno gli effetti fino a giugno. Si, fino a giugno e credo che quindi ci sarà una grande opportunità per il centro storico e credo che i ragazzi si divertiranno molto di più perché le attività culturali sono nel centro storico. Poi Lido la possono sempre raggiungere col sistema metropolitano perché non dimentichiamo che è vero che c'è la fermata l'intera università ma il sistema metropolitano collega anche il quartiere Lido. Quindi non lasceremo da parte Lido ma sicuramente incentiveremo per portare i ragazzi nel centro storico. Poi credo che Germaneto debba rimanere solo l'università, la facoltà di medicina. Tutte le altre facoltà noi vorremmo proprio spostare nel centro storico. Il sindaco di Catanzaro, nonché presidente della provincia Sergio Abramo, è chiaro. A Germaneto rimarranno soltanto le attività relative ai servizi. Quindi non ci sarà un futuro culturale nella zona del campus Salvatore Venuta. Infatti qui rimarrà soltanto l'area medica. L'area economica giuridica verrà riportata nel centro storico dove verranno creati anche tutti gli alloggi universitari e verranno anche agevolati gli affitti per gli studenti che grazie alla metropolitana potranno raggiungere facilmente il campus. Insomma, quale sarà il futuro della nostra Catanzaro? Il sindaco vuole puntare nuovamente sul centro storico.